Ciao a tutti, volevo presentarvi in questo video la possibilità di suddividere la classe in piccoli gruppi all'interno di Meet per farli lavorare contemporaneamente avendo voi allo stesso tempo la supervisione di quello che fanno i vostri studenti vediamo come funziona allora, in primo luogo dobbiamo partire da partiamo da Classroom io apro la classe con la quale intendo fare il lavoro a gruppi copio il link di Meet voi sapete che questa è una delle possibilità che abbiamo per creare dei link sicuri a Meet vado in lavori del corso creo, come vedete qua, un lavoro in piccoli gruppi ve lo faccio rivedere così lo facciamo da capo crea, materiale lavoro in piccoli gruppi lavoro in inglese creo un documento all'interno del quale posso fare il mio lavoro in gruppi gruppo 1 e incollerò il mio link andrò a sostituire la parte dell'indirizzo dell'urlo che viene dopo lo slash lookup e scriverò moscatelli gruppo 1 gruppo 2 rincollo e sostituisco questa parte moscatelli gruppo 2 gruppo 3 ed ecco fatto a questo punto ho creato le mie 3 micro aule allora che cosa devo fare ora? pubblico il mio lavoro il mio documento quando sarà il caso e inviterò gli studenti a consultarlo a quel punto potrò assegnare ciascuno studente potrò suddividere il totale dei miei studenti nei 3 diversi gruppi e potrò assegnarle quindi i primi 5 al gruppo 1 i successivi al gruppo 2 e gli ultimi 5 al gruppo 3 in maniera tale che possano lavorare voi sapete però che per quanto riguarda i meet convocati da Classroom l'insegnante deve aprirli sempre per primo per fare in modo che funzionino quindi io entrerò dentro qui e andrò ad aprire la classe ed eccola quindi sono qui moscatelli gruppo 1 eccola moscatelli gruppo 2 moscatelli gruppo 3 questo significa che io avrò i miei 15 studenti assegnati ai 3 diversi gruppi e lavoreranno mentre io posso muovermi all'interno dei 3 gruppi perché io sono invitata a tutte e 3 essendo le vedete qua essendo il creatore dei 3 gruppi naturalmente io avrò un grosso ritorno di rumore perché loro continueranno a lavorare e io li sentirò tutti e 4 quindi per ovviare a questo problema è possibile scaricare dal Chrome Web Store questa Mute Tab Extension quindi un'estensione che si chiama Mute Tab che consente la vedete qua di silenziare le diverse schede nelle quali vi posizionate quindi la vedete consente di disattivare l'audio per le diverse schede e quindi di non sentire il rumore all'interno delle stesse quindi lo attivo e lo disattivo vedete in maniera tale però che io posso seguire sempre tutti e 3 i miei gruppi che cosa devo fare ancora? quando gli incontri sono finiti devo solamente ricordarmi di chiudere i 3 Mute vedete questa adesso è attiva la disattivo posso tranquillamente poi uscire dal mio gruppo nel momento in cui io chiuderò mi sono accertata che tutti gli studenti siano usciti chiuderò il mio gruppo e in questo modo non potranno più entrare l'indirizzo resterà valido per altre classi per altri lavori a gruppi che io voglio fare oppure posso tranquillamente ricrearne di nuovi ogni volta sappiamo che quando lo studente è uscito non potrà più rientrare all'interno del gruppo che io ho creato con Meet quindi esco da questo esco anche da quest'altro non ero entrata perché però posso entrare vedete e lo chiudo sempre vedete ammutolendo la mia scheda o è uguale qua entro ed esco allora vi ricordo come si chiama la app che è l'estensione scusate che è questa quindi mettete mute tab chrome web app web store scusate eccola adesso come sempre qua io ce l'ho già installata e quindi non posso rimuoverla voi dovrete semplicemente scaricarla e attivarla io penso che questa modalità di utilizzare Meet possa essere utile a molti di voi perché consente proprio di lavorare in piccoli gruppi senza perdere di vista ciò che gli studenti stanno facendo spero che possiate utilizzarla con successo grazie 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 a tutti grazie a tutti